Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Nella vita ci sono delle fasi, ci sono delle stasi, ci sono delle estasi, delle ecstasi, non pensiamo ad altro. Ci sono dunque delle fasi, ci sono dei momenti, c'è la vita, ci sei tu, ci sono io. Allora, poco fa sono appena rientrato da un piccolo allenamento che è andato molto bene, sì, ho fatto una pausa di qualche settimana, una pausa forzata, ma una pausa inconsciamente voluta e necessaria alla fine di un lungo anno. A prescindere dal perché, quello che conta e quello che fai, come lo fai e che nasconde sempre una spiegazione. Allora, rientrato da questa corsa mi sono messo a scrivere il riassunto della corsa, le mie emozioni, come mi sono sentito, a mantenere un diario e il mio diario sono le pubblicazioni che faccio su Instagram. Invece di scrivere nel mio diario, faccio un diario pubblico delle mie uscite di corsa. E allora, pensavo già alla sfida del 2024. A livello sportivo, di corsa, di trail running, ho già deciso quale sarà la sfida più importante. Io scelgo ogni anno una sfida, una grande sfida. Di solito è una sfida più grande, in questo caso più lunga, con più dislivello. Perché se da una parte gli anni vanno avanti, ne abbiamo tanti, che bello, eh, quando abbiamo tanti anni. Invece quando siamo piccoli, ne abbiamo pochi. Eh, dunque, è bello perché ne abbiamo tanti da grandi. Più andiamo là con gli anni, abbiamo tanti anni, che bello, yeah. Ma non hanno capita tutti quella. I bambini sì, perché loro dicono, eh, io ne ho pochi, ne ho solo due. Ne ne vorrei dodici. Dicono, oh, quindici, che bello quando ne ho diciotto. Vedi? Loro sono avanti, sono furbi. Dunque, una sfida ogni anno, una sfida ogni mese, una sfida ogni settimana, una sfida ogni giorno, ogni sette giorni, ogni ventun giorni. Una sfida. Cos'è una sfida? Una sfida a esse, una sfida di esse. una fiducia, una fiducia in te, nelle tue capacità, quella fede. Torniamo sempre lì. Per intanto, la parola più forte assieme a un'altra è la fede. L'altra qual è? L'altra è la consapevolezza. Sono delle parole molto belle, molto forti. Quanto mi riguarda oggi, le utilizzo molto di più che la parola l'amore. Però cambiamo ogni giorno. Cambieremo anche domani allora. Stai tranquillo, stai serena. Guarda i miei video. Guardali. Ascoltali lì. Tieni lì con te. Scegline uno a caso. Ti farà del bene. Io ci sono. Un abbraccio. Ciao. E lascia un commento. Metti like al video. Condividilo con i tuoi amici se lo ami. E ti dico a presto per un nuovo video che verrà. Ciao.